Approvata la legge Fave, in Sicilia i deputati regionali, gli amministratori locali e la Giunta avranno 45 giorni di tempo per dichiarare la loro eventuale appartenenza a una loggia massonica. Lei ha dichiarato una pagina nera per la democrazia, ma al di là di questo, secondo lei da dove viene questa iniziativa? Viene dal pregiudizio, il pregiudizio portato ai massimi livelli perché non si può invocare la trasparenza da richiedere a tutti gli amministratori pubblici e poi scegliere soltanto un'associazione di cui si deve dichiarare l'appartenenza. Addirittura la legge regionale della Toscana fatta nell'81 è più aperta rispetto a questa perché chiede agli amministratori regionali di comunicare tutte le associazioni di cui fanno parte, tutte, dall'Arci alla loggia massonica, all'azione cattolica, al sindacato. Invece qui soltanto la massoneria che conferma la fobia verso la nostra comunione. Questa è una discriminazione a sua parere? Assolutamente sì, non c'è bisogno di essere Piero Calamandrei per capire che si tratta di un mostro giuridico verso il quale ci opporremo in tutte le sedi, ma soprattutto si dovrebbero opporre gli amministratori locali siciliani, si dovrebbero opporre i cittadini, si dovrebbero opporre le associazioni perché oggi tocca a noi, domani toccherà qualcun altro. Ma intanto sono stati 39 su 41 i deputati a votare favorevolmente. Però è stata approvata legittimamente, chi era assente ha torto, se voleva così mostrare un contrasto a questa legge ha sbagliato un metodo perché doveva andare all'assemblea regionale a votare contro, l'assente in questo caso ha torto. Invece una domanda, ma secondo lei come mai ci si iscrive ancora oggi a una loggia massonica? Ci si iscrive perché è un pilastro di libertà, è un baluardo di libertà, è un baluardo contro l'intolleranza, contro l'indifferenza. Noi lavoriamo per il bene dell'umanità, poi facciamo i nostri lavori rituali, ai quali partecipano soltanto i liberi muratori. Poi andiamo nel campo, nel campo che è il nostro agire quotidiano con iniziative culturali, filantropiche. Chi ci vuol conoscere ci può conoscere, però no alla massofobia. Lei ha parlato di riservatezza, ma c'è ancora segretezza? Io non ho mai parlato né di riservatezza né di segretezza. Noi siamo riservati quanto è riservata una qualsiasi altra associazione. Se io non faccio parte dell'Arci, non posso andare alle riunioni riservate agli iscritti all'Arci. Se quando l'Arci fa iniziative pubbliche posso andarci anch'io, così nel Grand Oriente d'Italia. Chi fa parte del Grand Oriente d'Italia può partecipare alle riunioni riservate ai fratelli del Grand Oriente d'Italia. Quando il Grand Oriente d'Italia fa iniziative pubbliche sono aperte a tutti e può andare a vedere queste iniziative. Invece questa domanda io l'ho fatta tempo fa e la voglio rifare. Ma secondo lei perché in Sicilia e in Calabria ci sono più massoniche nel resto d'Italia? Ma intanto non è così. Il maggior numero di massoni sono in Toscana e quindi non... Di logge forse, mi sono espresso male. Neppure, perché il maggior numero di logge è ancora in Toscana. Anzi, come numero di logge rispetto al numero dei fratelli non è un numero elevato sia in Calabria che in Sicilia.